Si può dire che l'Eurovision sia un festival di Sanremo moltiplicato per tutti i paesi che ci partecipano? Ti piace questa definizione? Sì, questo mi piace tantissimo perché infatti l'Eurovision è stato un po' influenzato, tanto influenzato da Sanremo, la cultura di Sanremo in Italia. Dunque loro l'hanno guardato e poi ha avuto anche... è per questo che l'Eurovision oggi è come è. Però la cosa incredibile è che qua ci sono più di 1500 persone che stanno lavorando su questo show. E anche con 200 milioni di persone che guarderanno la Grand Final possiamo dire che questa prende una forma e anche una scala enorme. È come un universo parallelo, devo dirlo. Essere qua è un onore per me, è un onore per noi e ci divertiamo in una maniera che... Si vede? Si vede da come lo racconti, Mika. Dici solo una cosa, canterai? Sì, canto con Laura e anche canto da solo, faccio un medley. E mi sto preparando. Devo dire che sono molto felice e anche molto ansioso. Che bello, non vediamo l'ora di vedervi. A prestissimo, grazie Mika. A presto.